Tutto l'entrata gli danno soldi, si sceglie lui il ristorante doveva andare, lo vanno a prendere a casa lo scarrozzo, la macchina, le carri di là, insomma lui finalmente nella sua vita si trovava il centro e l'universo. Gli promettono l'assoluta immunità, ha tolto, perché poi l'unico è un galecante, però c'è morto un galecante a volaccio e dice prima di morire voglia parlare con qualcuno e voglia parlare con il suo avvocato. La chambre è della base, ma non parlare perché sennò mi metto nel guai.